Buongiorno a tutti e grazie di essere intervenuti così numerosi e saluto anche tutti coloro che della stampa stanno seguendo la diretta Facebook sul profilo del Comune di Osimo. Oggi è una giornata molto importante per Osimo perché abbiamo deciso di qualificare l'opera dell'amministrazione comunale dal punto di vista urbanistico con la collaborazione siglata con l'Università Politecnica delle Marche, quindi qui saluto il magnifico Rettore Gianluca Gregori, il professor Gregori che ci onora della sua presenza qui a Osimo e questa collaborazione è nata con il Dipartimento Simao di Urbanistica dell'Università Politecnica e qui saluto il professor Giovanni Marinelli che sta lavorando in tandem con la dirigente all'urbanistica Manuela Vecchieti e assieme a me collabora l'assessore all'urbanistica Annalisa Pagliarecci che è seduta a fianco del professor Marinelli. Ma perché siamo qui oggi e perché Osimo si qualifica con questa collaborazione? Questa è la domanda più importante perché Osimo è stata caratterizzata in questi anni da un contenzioso con Altar e con la provincia di Ancona perché c'è sempre questo rapporto in cui il testo unico antilucali dona alle amministrazioni la potestà per edigere un piano regolatore generale ma questo piano regolatore generale deve sottostare, ascoltare delle normative sovracomunali che poi si intersecano l'un l'altra e non si capisce mai bene qual è il limite entro il quale la potestà di un comune può arrivare. Questo ha portato a un forte contenzioso e allora c'era bisogno per avere una visione strategica e risolvere definitivamente questo contenzioso c'era bisogno di una collaborazione autorevole e chi meglio dell'Università Politecnica delle Marche poteva donarci questa collaborazione che è nata su, di cui ho due motti in particolare che abbiamo elaborato uno è l'arcipelago dei contesti, l'altro è dalla quantità alla qualità. Che significa questo? L'arcipelago dei contesti è aver per un attimo cambiato il modus operandi di elaborare un piano regolatore generale assieme allo staff l'amministrazione comunale di sette giorni in sette giorni è andata in mezzo alla gente il laboratorio urbanistico invece di essere dentro l'ufficio tecnico del comune si è spostato in tanti luoghi in mezzo ai cittadini ascoltando le criticità ed elaborando possibili risoluzioni. Ecco questa è stata una scelta che è piaciuta al popolo simano che è piaciuta a tutti coloro che sono qua oggi, che ringrazio, dicevo prima fuori microfono a Magnifico Rettore la consulta ambiente e territorio, la commissione attività produttive, quindi impresa e lavoratori alle minoranze, perché vi saluto Caterina Donia che fa parte della consulta quindi significa che abbiamo fatto un'opera di partecipazione democratica molto importante perché costruire una visione strategica dal punto di vista urbanistico significa guardare Osimo nel prossimo futuro e quindi noi siamo amministratori pro tempore ma vogliamo lasciare insieme a tutti coloro che sono stati eletti per amministrare la città, quindi maggioranza e minoranza, guardando e donando alle future generazioni qualcosa di particolare qual è quell'aspetto che poi ci vuole caratterizzare? Il piano regolatore, abbiamo detto, dalla quantità alla qualità significa che non è solo cementificazione, non è solo l'impresa che acquista un pezzo di terreno e vuole costruirci sopra delle abitazioni o il capannone per la propria attività produttiva dalla quantità alla qualità significa donare alla città di un piano di mobilità sostenibile significa donare alla città di un piano delle energie rinnovabili significa donare alla città un piano del verde è stata fatta un'analisi importante se in ogni lottizzazione, in ogni sviluppo della città di questi anni con il piano regolatore attuale siano stati rispettati o meno gli standard urbanistici sono importanti perché quando siamo andati in mezzo alla città la città ci ha chiesto aree verdi, parchi, giardini, parcheggi e anche una migliore mobilità per i pedoni, quindi i marciapiedi e quindi una grande viabilità per decongestionare il traffico nell'asse Ancona-Macerata ecco uno degli assi portanti di questa nuova pianificazione urbanistica è anche la grande viabilità perché, racconto al magnifico rettore, nella città c'è un dibattito da oltre 30 anni per spostare questo traffico pesante perché Osimo è l'unica città crocevia tra la montagna e il mare tra le province di Macerata e di Ancona allora questa amministrazione ha puntato molto su una variante a nord piuttosto che a sud che passasse in mezzo alla città e stiamo cercando di intercettare fondi al Ministero dell'Infrastruttura e Trasporti e lo possiamo fare solo se l'opera infrastrutturale viene pianificata da uno staff altamente qualificato ecco la scelta vera dell'università dove i giovani progettano il futuro perché in questo staff capitanato dal professor Marinelli abbiamo avuto l'opportunità di far lavorare tanti giovani che sognano il loro futuro e lo sognano in questo caso venendo dal Dipartimento Simao e dall'università diciamo ramo urbanistica, ingegneria edile, architettura e così cercano di costruire da questo punto di vista il futuro della nostra città questa è l'opera che ci ha qualificato Magnifico Rettore ma dico io concludendo che non può essere solo questa l'unica opportunità di collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche perché al fianco di un buon sviluppo urbanistico c'è anche un buon sviluppo economico ed ecco allora che nel nostro programma elettorale c'era anche quello, dicevamo prima, in separata sede con Magnifico Rettore di costruire un luogo per far progettare delle start-up per far sognare in grandi giovani che non hanno le risorse per dare vita ad un'impresa che sia quindi questa opportunità un inizio di una collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e che possa far guardare ad un aosimo abbiamo detto il nostro programma elettorale un aosimo città europea ma oggi non ci basta più vogliamo che i nostri giovani sognino una dimensione internazionale e allora solo i migliori studenti e le migliori studentesse assieme ai loro professori che l'hanno qualificata possono costruire il futuro della nostra città qui chiudo e lascio la parola al Magnifico Rettore Gianluca Gregori grazie grazie bene allora buongiorno a tutti stavo provando a sintetizzare alcuni concetti soprattutto per inquadrare questo rapporto di collaborazione e capire a che cosa serve qual è l'utilità la prima considerazione la faccio pensando all'importanza dei territori cioè il territorio negli ultimi anni è stato considerato più un fardello quindi un problema che qualcosa da valorizzare nel senso che tutti i processi di centralizzazione che ci sono stati penso alle banche penso alla grande distribuzione anche alla politica che impone spesso i candidati a livello centrale cioè tutti questi processi di centralizzazione che hanno fatto hanno spesso determinato una minore importanza al territorio questo vale per gli studenti dico sempre che quando gli studenti vanno via non perdi gli studenti perdi i cittadini del futuro perché quello studente difficilmente rientra allora questo approccio è un approccio che dobbiamo tenere presente perché il territorio non è quello che vivi ma è quello che costruisci il territorio è un insieme di flussi di chi se ne va e chi viene in questa logica sai Sindaco uno dei concetti che spesso evidenzia anche ai nostri giovani che vanno in Lombardia a studiare abbiamo dei flussi abbastanza forti dal sud verso il nord lo facevo vedere l'uno di scorso a tutti gli assessori regionali che sono veramente molto preoccupanti tanto che dico c'è un problema di tenuta del sistema paese Italia ecco quei flussi io dico però ai nostri giovani vengono fatti per quale ragione lavoro, possibilità di vita ecco ma uno che guadagna 1.600 euro al mese a Milano non vive quindi queste sono considerazioni che io faccio ai giovani perché è importante farli ragionare con i piedi per terra ecco allora quello che dobbiamo fare noi qual è? è dare queste opportunità dare queste possibilità perché non è vero che tutti i territori sono uguali guardate io mentre prima il sindaco parlava stavo prendendo i principali indicatori di Osimo Osimo aveva 16.359 residenti nel 1861 tenete conto che ci sono paesi che hanno oggi meno residenti del 1861 voi siete arrivati a 34.826 circa quindi c'è stata comunque una crescita e ho visto anche gli ultimi anni che sono quelli che sono un po' pericolosi tutto sommato c'è una piccola crescita al mantenimento cioè non è una situazione drammatica io le ho viste le situazioni drammatiche io seguo una trasmissione che si chiama linea bianca per la RAI quando c'ho tempo e quindi sono andato in giro per l'Italia a esaminare la situazione insieme a un conduttore che si chiama Rossini ci sono paesi voi avete un indice di vecchiaia che è 156 1.5 c'è 1.5 ultra 65 rispetto allo 0-14 anni ma ci sono paesi che ci hanno 400 cioè che non ci hanno piramidi demografiche ma ci hanno colonnine demografiche allora da questo punto di vista come inquadro questo questo progetto poi ne parlerà il professor Marinelli e cioè qual è la nostra funzione la nostra università va bene guardate devo dire è anche soddisfacente ti coinvolge un po' Mauro ci conosciamo da tanti anni la vita viene viene presa quando fai questo mestiere e i risultati sono positivi proprio in relazione alla terza missione questo è un esempio di terza missione così si chiama l'attività dell'università l'università tra i grandi grammi la didattica la ricerca è la terza missione la terza missione è quello che fai mettendoti in collaborazione con i vari soggetti esterni alle comunità noi siamo stati individuati dal ministero come terza a livello nazionale cioè il primo è il Politecnico di Torino il secondo Politecnico di Milano poi ci siamo noi che questa cosa già un po' mi mette diciamo paura per il futuro perché mantenere una posizione di questo tipo non è non è scontato però ovviamente gioiamo in questo momento allora questo rapporto come che senso c'ha perché se no dice ma l'università che c'entra ecco si colloca proprio all'interno di queste progettazioni cioè un rapporto di collaborazione in cui viene finanziata l'attività di ricerca in cui un nostro dipartimento il Simau che è uno dei dipartimenti della facoltà della facoltà di ingegneria in particolare poi interverrà il professor Marinelli illustrando il progetto collabora con il comune su determinate attività e su un piano come è stato evidenziato correttamente sia facendo riferimento all'arcipelago dei contesti ma anche a questo concetto che è molto interessante e cioè dalla quantità alla qualità il tema della qualità è il tema fondamentale si inserisce in un piano urbanistico molto più allargato dove il tema della visione è il tema fondamentale perché vi potrei fare riferimento a situazioni di paesi che sono morti veramente facendovi dei confronti perché è mancata una visione è mancata una strategia di territorio il fatto che questo venga costruito coinvolgendo i diversi soggetti della vita attiva della comunità è un altro punto fondamentale perché i primi a crederci dovete essere voi devono essere i vari soggetti che ne fanno parte perché se chi ne fa parte di quella comunità non ci crede vi assicuro che non c'è strategia che tenga e questo è l'altro punto fondamentale no sindaco sul quale bisogna bisogna ragionare quindi io ci diamo del tu quindi mantengo il tu informale ti ringrazio molto uno perché hai scelto la nostra università perché ci dà modo di collaborare e provare a dare un contributo per essere utili come dico io alle nostre comunità grazie a te grazie di cuore il tuo intervento adesso per entrare prima di entrare un po' nel vivo del lavoro svolto dal Simao insieme alla dottoressa Vecchietti lascio la parola all'assessore urbanistica Annalisa Pagliareci grazie a tutti buongiorno vorrei ringraziare il rettore il professore il professore Gregori che grazie all'accordo che ci ha dato questa possibilità di questo accordo di questa collaborazione siglato nel gennaio 2021 per la nostra amministrazione è un'occasione e questa occasione ci permetterà quindi di arrivare al nuovo piano regolatore al nuovo strumento urbanistico e un ringraziamento vorrei farlo anche al al professor Marinelli la facoltà ingegneria è la nostra dirigente e tutto lo staff che comunque sia è di supporto ma segue lo sviluppo del piano urbanistico e la nostra dirigente sta lavorando molto e stiamo puntando anche a a raggiungere entro il mese di giugno proprio alla all'approvazione del documento programmatico in consiglio comunale e questa è un'occasione perché saranno delineate proprio le linee strategiche e indirizzi per la definizione dello strumento di governo del nostro territorio i nostri obiettivi come diceva anche il sindaco sono stati quelli dell'ascolto della partecipazione della cittadinanza perché per noi è un obiettivo importante perché il piano regolatore deve essere uno strumento di tutti non solamente da parte degli uffici tecnici del comune e un altro punto è proprio stato quello dell'analisi del nostro territorio noi avevamo delle difficoltà e cercheremo di raggiungere a breve a un piano regolatore che possa essere anche per la cittadinanza uno sviluppo di tutti i servizi puntando proprio alla rigenerazione e riqualificazione a cinque temi che noi diamo molta importanza la rigenerazione la riqualificazione valorizzare il patrimonio storico del centro storico valorizzando questo anche quello che riguarda il tutto la mobilità l'infrastrutture e soprattutto anche il turismo che è un ottimo motore anche di sviluppo economico per la nostra città vi ringrazio grazie mille rubo altri due minuti nell'introdurre il professor Marinelli perché gli devo un grande grazie stamattina ero al fianco del magnifico rettore alla presenza di Antonio De Caro e il magnifico rettore ha centrato una cosa importante che la politica deve imparare a fare siamo stanchi tutti anche se siamo amministratori locali dei proclami e si parlava di PNRR il comune di Osimo grazie al dipartimento simale al professor Marinelli ha avuto un'intuizione qualche mese fa che è divenuta realtà siamo beneficiari di un contributo di 4 milioni e 300 mila euro che derivano proprio dal PNRR per riqualificare il centro storico e siamo oltretutto orgogliosi che siamo riusciti a mettere in squadra comuni di tutte e cinque le province delle Marche perché un altro problema vero delle pubbliche amministrazioni è fare squadra già con il vicino di casa con il comune vicino di casa noi ci siamo riusciti abbiamo ottenuto 15 milioni di euro nel suo complesso il progetto PINQA e siamo stati beneficiari grazie a questa intuizione ed ecco perché ho rubato qualche minuto prima di passare la parola al professor Marinelli che ringrazio vuoi prima ecco prima di entrare nel vivo vogliamo un attimo allora lascio la parola alla dirigente dell'urbanistica Manuela Vecchietti che ha coordinato i lavori e poi entriamo proprio nello strumento insieme al professor Marinelli grazie buongiorno a tutti io saluto il rettore saluto l'architetto Marinelli e ringrazio della presenza io sono Manuela Vecchietti sono stata incaricata dall'amministrazione per la revisione dello strumento urbanistico vigente strumento che negli anni ha presentato ha fatto emergere diverse problematiche ha avuto spesso poca rispondenza alle esigenze reali del territorio e ha lasciato risolte alcune situazioni emersi con il confronto con gli enti sovraordinati creando spesso uno stallo proprio allo sviluppo del territorio questa sfida è una sfida molto importante perché l'obiettivo non è solo quello di adeguare questo strumento e dare una risposta a queste problematiche pregresse ma quella di definire un nuovo piano che sia soprattutto innovativo e che possa essere anche sperimentale parliamo oggi dagli ultimi anni di rigenerazione urbana di qualità dell'abitare di valore del paesaggio e delle risorse naturali proprio come strumento per il miglioramento della qualità della vita di servizi che non sono carenti dal punto di vista quantitativo ma che devono essere messi a sistema devono essere resi accessibili a tutti i cittadini infrastrutture verdi e blu mobilità sostenibile resilienza criticità territoriali tutti questi temi che in questo che ad oggi nello strumento urbanistico vigente non sono non sono aspetti che sono stati considerati invece devono essere inseriti integrati nel nuovo strumento per fare questo è stato necessario è necessario fondamentale costituire un gruppo di lavoro un gruppo di progettazione molto eterogeneo con competenze specifiche ed è proprio in questo scenario che l'accordo di collaborazione con l'università dà valore rafforza e accresce questa interdisciplinarità e multidisciplinarità che noi cerchiamo nella formazione di questo strumento grazie alle esperienze dell'università nell'ambito della ricerca multidisciplinarità dicevo appunto e vorrei presentare il gruppo di progettazione collabora con me come tecnico interno a lente collabora nella progettazione del piano il geometra Dario Santa Giustina fanno parte come esperti esterni del gruppo di progettazione la dottoressa forestale Carla Bambozzi il geologo Fabio Vita la dottoressa esperta in scienze ambientali Ilaria Marini l'architetto Chiara Pasqualini l'ingegnere Silvia Mazzoni si occupano nello specifico della parte della valutazione ambientale degli aspetti ambientali dell'acustica dell'elettromagnetismo la società CAE di Ancona che è rappresentata operativamente nel gruppo di lavoro dal dottor Stefano Virgulti e dalla dottoressa Eleonora Nagliati oltre a tutte le professionalità che l'università ci ha messo a disposizione che sono coordinate dall'architetto Marinelli che è professore di tecnica urbanistica presso il dipartimento Simau e vorrei nominare uno fra tutti i suoi collaboratori l'ingegner Luca Domenella che ringrazio per il lavoro che sta svolgendo che è molto prezioso quindi insomma ho detto appunto un approccio innovativo sperimentale per un nuovo piano che dovrà necessariamente stare all'interno dei dettami delle leggi urbanistiche quindi dovrà rispettare le norme la 1150 del 42 e la nostra legge regionale 34 del 92 però vogliamo che superi questa impostazione tradizionale dello zoning e dello standard urbanistico legato solo ad una visione ad una valutazione quantitativa gli strumenti urbanistici vigenti infatti sono sempre stati molto attenti alle quantità agli indici parametri capacità edificatoria e tralasciando le valutazioni qualitative proprio del paesaggio il valore del paesaggio e degli aspetti morfologici quindi noi stiamo operando sempre nel rispetto della verifica degli standard di tutto quello che ci richiede la norma però stiamo operando qualificando proprio delle dotazioni territoriali dandone un'accezione un valore qualitativo quindi parliamo di dotazioni e misuriamo il reale apporto dei servizi ecosistemici delle dotazioni ambientali per misurarlo ecco all'interno dell'apporto del miglioramento del paesaggio e della qualità della vita innovativo questo nostro lavoro questo percorso dal punto di vista metodologico il lavoro di analisi che è stato completato e anche tutto il lavoro che faremo di progettazione e pianificazione si basa su una cartografia aggiornata su un nuovo volo fatto tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 ed è questo lavoro è tutto esclusivamente realizzato su un ambiente GIS il GIS ci permette quindi di mettere a sistema di sovrapporre una serie di informazioni che non sono solo quelle urbanistiche ed edilizie urbanistiche ma sono quelle socio-economiche i dati demografici anagrafici istat dei valori immobiliari per fare un'analisi specifica del territorio molto puntuale e in questo modo il piano diventa uno strumento per prendere delle decisioni non è uno strumento statico ma uno strumento dinamico che si adatta e che sceglie anche rispetto ai cambiamenti del territorio stesso e delle persone che lo abitano parlo di innovazione anche rispetto alla definizione di un quadro conoscitivo che è stato già delineato che ha visto un lavoro importantissimo per la definizione dello stato di attuazione del piano regolatore sono state catalogate 256 aree oggetto di pianificazione attuativa indiretta sono state differenziate per contesti per tipologie abbiamo calcolato i volumi realizzati gli standard acquisiti la capacità il reale quindi un reale assetto edilizio urbanistico del territorio e allo stesso tempo sempre attraverso il GIS abbiamo di nuovo fatto la trasposizione passiva di tutte le categorie costitutive del PPR quindi il patrimonio botanico vegetazionale geomorfologico lo storico culturale il PTC con una definizione di un dettaglio massimo che ci ha consentito appunto questa cartografia oltre a questo il disegno del paesaggio è arricchito anche da questi aspetti innovativi sono stati integrati tutti gli elementi della REM e cosa importante tutte le risultanze degli studi di microzonazione sismica che sono stati condotti dal geologo Piccinini e che in questo momento questa integrazione il recepimento degli indirizzi delle risultanze della microzonazione sismica il piano di Osivo sarà il primo uno dei primi piani sicuramente il primo in ambito provinciale a recepire all'interno delle norme gli indirizzi della microzonazione quindi tutta questa indagine così puntuale ci permette davvero di fare una valutazione qualitativa del paesaggio di graduare anche gli ambiti di tutela di pianificare quali sono le aree che hanno necessità di riqualificazione o quali sono le aree che hanno gli elementi importanti da tutelare e da valorizzare quindi nel disegno nella fase progettuale quello che vogliamo fare non è questa visione del paesaggio non è finalizzata a imporre dei divieti e delle tutele che rischiano spesso di cristallizzare uno stato di fatto del territorio allo stato attuale ma vorremmo appunto trovare delle soluzioni che possano consentire la valorizzazione del territorio lo sviluppo ma soprattutto lo sviluppo urbanistico del comune al tempo stesso quindi altro elemento innovativo se non altro per il piano di Osimo è che la formazione del piano sarà accompagnata da tutta la fase di valutazione della VAS la VAS è un processo che accompagna proprio la formazione del piano il piano prende forma proprio attraverso alcuni passaggi previsti nel procedimento di VAS noi abbiamo già attivato il procedimento di VAS la fase di ascolto di raccolta dei contributi già nella fase dell'arcipelago dei contesti il documento programmatico stesso è stato delineato anche grazie a tutti i contributi che abbiamo ricevuto in questi mesi di ascolto e di partecipazione ed è così che sarà la fase della formazione del piano noi continueremo ad ascoltare anche facendo partecipazione sul documento sugli indirizzi che sono stati delineati nel documento programmatico voglio e poi concludo delineare il procedimento da qui ai prossimi mesi un procedimento che vedrà l'approvazione del documento programmatico e degli indirizzi di piano entro il mese di giugno in consiglio comunale da lì procederemo alla definizione del piano e del rapporto ambientale anche attraverso la fase dello scoping di VAS quindi acquisiremo tutti i contributi anche degli SCA dei soggetti competenti in materia ambientale e degli stakeholder una volta definito il piano il rapporto ambientale acquisiti i pareri poi inizierà il procedimento quello proprio ai sensi della legge 34 quindi la prima adozione la fase delle osservazioni che saranno osservazioni di natura ambientale sul rapporto ambientale sulla VAS e di natura urbanistica sul piano che saranno coordinate e ad esempio rispetto a quelle di natura ambientale ci sarà una condivisione proprio un coordinamento con l'autorità competente che è la provincia nella definizione delle osservazioni dopodiché la rielaborazione del piano a seguito magari dell'accoglimento delle osservazioni la seconda adozione la fase del parere di conformità urbanistica e l'approvazione finale del piano questo è un po' il percorso che ci si presenta da qui ai prossimi mesi e ultima cosa non meno importante è proprio l'occasione del PNRR del piano nazionale di ripresa e resilienza il piano urbanistico deve necessariamente porre le basi e le condizioni per poter perseguire quei target e quegli obiettivi che sono propri del piano di ripresa e resilienza questi obiettivi se parliamo appunto in termine di rigenerazione urbana e di accessibilità ai servizi sono stati appunto raggiunti già in una prima fase di collaborazione con l'università con il finanziamento che abbiamo ottenuto di 4 milioni e 2 grazie adesso passo la parola ora entriamo nel vivo del primo lavoro la prima stesura di un lavoro che abbiamo fatto in questi mesi sicuramente un altro dato importante che abbiamo ascoltato stamattina invece dalle parole del presidente Anci è non possiamo costruire asili nido nuovi se non c'è natalità e quindi questo passaggio dalla quantità alla qualità è proprio qui perché nel vedere Osimo nel suo futuro dobbiamo capire bene dove investire anche dal punto di vista infrastrutturale però lascio la parola al professor Marinelli con il quale abbiamo ben collaborato in questi mesi e tanto c'è da fare ancora grazie ci provo dimmi se va bene allora grazie a tutti per essere qui e ovviamente ringrazio chi mi ha preceduto è una giornata importante per noi perché oggi come dire segniamo un punto di svolta rispetto all'attività che fin qui abbiamo condotto parliamo del piano urbanistico generale quindi diciamo un momento nel quale tornare a parlare di città molte volte spesso ci si dimentica si perde l'attenzione rispetto a questo tema in realtà è un tema centrale per quanto riguarda il rapporto con la comunità con le risorse economiche e in generale con tutti gli aspetti legati ai valori che il territorio già ha in sé e che può esprimere verso il futuro in questa dimensione il piano urbanistico vuole definire una traiettoria per il territorio di Osimo che guarda alle relazioni con i territori circostanti ma anche ai valori alle risorse endogene e per questo abbiamo spostato l'attenzione da subito sulla comunità questo è un trascorso che noi abbiamo maturato lavorando nelle aree del cratere sismico abbiamo capito che anche nell'ordinarietà alcuni di questi principi devono tornare ad essere al centro del dibattito parlare di urbanistica significa parlare del sistema dell'abitare di chi abita le città di chi utilizza i servizi che la città offre e di come affronta quotidianamente le criticità che il territorio la città nel suo flusso in divenire come dire mette in campo quotidianamente noi abbiamo spostato subito l'attenzione su alcuni temi dominanti che poi saranno l'oggetto della discussione delle attività che porteremo avanti nei prossimi mesi io ho preparato moltissimo materiale chi ha partecipato agli incontri e all'attività sa che faccio fatica ad essere sintetico su molti temi perché sono temi complessi ognuno di questi temi rappresenta un universo di opportunità criticità e di occasioni per lavorare il piano urbanistico e la sua visione e la sua complessità ci porta a confrontarci con tutti questi temi e come dire matura anche la volontà a volte di affrontarli tutti ma bisogna creare anche le condizioni per poterli affrontare il primo elemento come dire che ci porta a riflettere sul piano regolatore è proprio la criticità che lo strumento in sé aveva rispetto a un contenzioso che il sindaco richiamava e che necessariamente in questi anni ha condizionato lo sviluppo sia dal punto di vista urbanistico ma come dicevamo anche della comunità l'imprenditorialità la qualità del vivere l'incertezza che genera quelli che sono gli strumenti della pianificazione in una comunità che trova come dire nello strumento urbanistico spesso ci si scontra quando uno ha un problema non quando uno ha un'opportunità e quindi scopre che poi non può fare delle cose nella visione che richiamava il sindaco dalla quantità alla qualità è proprio questo cioè porre l'attenzione qualitativa rispetto ad alcuni elementi sicuramente in questi anni il territorio è cambiato e il primo elemento conoscitivo è quello di capire come questo territorio è stato modificato e si è modificato nel tempo e abbiamo ricostruito un dataset di indicatori ma non voglio indicarvi questi ma voglio dirvi che l'analisi che è stata condotta ci permette adesso di definire un territorio in uno stato diverso da quello che è stata la base della pianificazione negli anni precedenti e quindi abbiamo nuove esigenze nuovi elementi che nel tempo si sono stratificati ecco da qui l'esigenza oltre a una questione giuridico-amministrativa che richiamava il sindaco l'opportunità di andare a ridefinire le traiettorie di questo territorio andando a costruire una fotografia di un territorio che come succede per gli esseri umani nel tempo cambiamo e il territorio cambia allo stesso modo e la comunità cambia anch'essa quindi sono traiettorie che riconosciamo nel piano urbanistico come elemento fondante per definire le strategie al futuro in questo caso quindi vogliamo e abbiamo sentito la necessità di caricare lo strumento urbanistico di quella dimensione che richiamava anche il rettore cioè quella della visione al futuro perché io adesso mi avvalgo di qualche immagine ma non voglio entrare nel merito del dettaglio perché non è oggi la giornata nel quale come dire introduciamo gli elementi di dettaglio ma definiamo la cornice e l'attività e vi comunichiamo quello che andremo a fare non si tratta di definire delle carte ovvero lo stato di diritto del suolo le opportunità economiche che questo può generare ma quello di andare a capire quali sono queste traiettorie di sviluppo non solo in sediattive attorno alla dimensione della città cresce il PNRR ce l'ha detto in maniera forte il cambiamento climatico ce l'ha definito la componente ambientale come quell'elemento principale che definisce la qualità della vita e come richiamava anche prima il rettore con una dimensione economica posso permettermi delle cose in determinati contesti faceva l'esempio di Milano ma noi abbiamo un territorio che può offrire delle opportunità se indirizzate in una direzione di sviluppo che comprende queste potenzialità e quindi da qui l'esigenza di spostare l'attenzione non solo agli edifici perché uno pensa all'urbanistica l'insieme degli edifici nel caso di Osimo in particolare l'attenzione si sposta sempre e necessariamente sul tema delle infrastrutture per esempio non dividendo mai infrastruttura da mobilità sono due temi diversi il piano intercerta questo ragionamento e lavora sull'esistente non buttando via facendo tabula rasa di tutto quello che è stato pianificato e che rappresenta la base sul quale ci muoviamo ma cogliendo degli elementi che restano nella pianificazione e vanno rindirizzati verso una visione diversa in questa operazione conoscitiva quindi la dimensione dello sviluppo ci porta anche a degli indicatori significativi ad esempio capire quale incidenza c'è stata nella pianificazione il piano vigente arriva da un piano precedente del 96 che portava delle previsioni urbanistiche quanto ha inciso quello strumento sul territorio per le criticità che ci siamo detti adesso e dall'analisi che abbiamo condotto come dire in maniera palese è emersa una difficoltà dello strumento di incidere sul cambiamento vi faccio vedere solo un'immagine queste sono è il territorio di Osimo come abbiamo detto più volte le cartografie sono sempre una cosa un po' ostile chi è pratico le usa in maniera indiscriminata e chi non le utilizza con continuità fa fatica a orientarsi però evidentemente riconoscete il profilo del territorio comunale il capoluogo al centro più in nero le parti costruite del territorio e il resto il territorio agricolo ecco che in queste previsioni per esempio gli strumenti urbanistici di nuova previsione in vent'anni di vigenza del piano anzi più di 15 anni ci avviciniamo a una soglia ancora più lunga due sono aree solo due le aree che sono partite e nessuna delle due è arrivata a destinazione che significa che necessariamente c'è bisogno di mettere mano a questo strumento quindi da qui capite che le condizioni al contesto al contorno che sono state descritte da chi mi ha preceduto sono elementi fondanti ma anche la capacità di dotarsi di uno strumento che sia in grado di interpretarle diventa un'operazione significativa da qui come vi dicevo lo slogan che richiamava il sindaco l'arcipelago dei contesti cioè riconoscere le identità locali è il primo passo cioè riconoscere le identità dei luoghi e significa anche riconoscere le comunità attraverso questa attività abbiamo spostato l'attenzione dagli uffici comunali verso i luoghi andando per la prima volta in maniera itinerante perché poi torneremo in questa pratica a incontrare le persone i residenti le associazioni di categoria che hanno dato in una prima base una prima fase dei contributi e che poi in questa seconda fase di formalizzazione delle traiettorie principali che adesso velocissimamente vi andrò a definire hanno costituito la base sul quale poggiare le nostre riflessioni quindi sono riflessioni che emergono sì da analisi come l'università e l'apporto scientifico metodologico ci impongono ma anche dal confronto e soprattutto dal confronto e la comprensione delle comunità locali portatori di saperi che non trovate scritti da nessuna parte e che solo attraverso una ricognizione sul territorio siamo in grado di definire questa è un'attività aperta che resta aperta per tutta l'attività del piano perché ci importa parlare di città parlare del processo non del risultato finale questa è un'immagine che facciamo vedere abbiamo fatto vedere durante tutti gli incontri che ci aiuta un po' a uscire dai tecnicismi però a imprimere nella mente magari un'immagine significativa possiamo catalogare come nell'immagine di destra gli elementi che costituiscono il territorio la comunità i diversi settori tecnico-scientifici oppure possiamo vederli nella loro relazione ecco il magnifico rettore richiamava proprio il tema della mobilità delle relazioni tra i luoghi e quelle sicuramente sono la linfa che muovono e fa crescere e sviluppare in senso qualitativo non dimensionale il territorio quindi l'approccio che noi abbiamo è quello di definire con questo strumento in questa prima fase una visione programmatica quindi definire non la regolazione del suolo lo piano regolatore generale ma una visione programmatica e lo faremo attraverso un approccio che cerca di tenere insieme questi elementi che abbiamo definito olistico che ormai è un termine che come dire trova tante definizioni ma poi nell'applicazione del territorio ancora deve essere definito e l'altro tema centrale è quello della sintesi e del coordinamento cioè la necessità come dire di andare a definire rispetto a politiche programmi sempre frammentati cercare di riunirle in una visione ordinaria unica e poi proporla al territorio perché solo così riesce a superare quelle discrasie procedimentali oppure quell'operato che non sempre ha allineato servizi sociali piuttosto che manutenzione del territorio spazi verdi piuttosto che sistemi energetici e della qualità dei servizi ecco che allora il piano regolatore sì ha lo scopo di definire e regolare il sistema insediativo sul territorio ma tutti questi oggetti che abbiamo descritto fino adesso sono elementi di funzionamento che trovo all'interno di questi di questi sistemi quindi se immaginassimo il territorio come un insieme di architetture non potremmo immaginare chi abita il territorio se non pensandolo come una comunità ecco che allora questi elementi ci hanno portato a definire alcuni lo slogan proprio il il logo del piano che abbiamo immaginato poggia su 5 elementi che richiamano un po' le 5 torri di Osimo ma sono i temi sul quale la riflessione deve essere posta per andare a definire uno strumento urbanistico il primo fra tutti l'abbiamo richiamato il PNRR ce lo mette al centro dell'attenzione ovvero il tema della regenerazione urbanistica che significa dalla quantità alla qualità significa andare a operare per cercare di risolvere quei detrattori che sono presenti sul territorio quei contenitori dismessi che non solo creano un danno come dire sono delle occasioni perdute nel territorio ma generano un danno economico anche a chi risiede sta attorno a questi elementi a questi oggetti nel territorio ce ne sono diversi e l'occasione è quindi andare a lavorare come qualche anno fa la regione indicava costruendo sul costruito cioè andando a rivedere questi contenitori ma con tutte le accezioni che abbiamo definito prima quindi dalle parti più esterne del territorio ma andando a guardare anche all'interno del centro storico sappiamo benissimo quali sono le situazioni e abbiamo imparato a conoscerle e su queste il piano urbanistico può incidere oltre a questo c'è la dimensione ambientale che richiamavamo prima che diventa determinante un'asse fondante del piano sarà sicuramente quello legato alle risorse ambientali come la nuova leva per andare a innescare le trasformazioni e a riequilibrare i pesi sul territorio oltre a questo c'è il tema della sicurezza che poi vedremo alla fine il PINQA è l'occasione della collaborazione per andare a sperimentare subito quindi il piano urbanistico sembra un faldone di carta in realtà è un strumento anche per catturare risorse e l'abbiamo dimostrato da subito andando a catturare con il progetto R9 incordata con nove comuni sul territorio la regione che ha reso disponibile questo che tra l'altro io vado veloce però era un finanziamento per le città metropolitane l'abbiamo portato ad Osimo e nei piccoli comuni delle Marche che significa che l'innovazione è possibile portarcelo anche in territori marginali e a mio avviso questo esempio potrà essere anche come dire di indirizzo per altre sperimentazioni qui abbiamo ancorato il tema come richiamavo della sicurezza come un elemento centrale perché abitare nella qualità significa anche abitare in sicurezza e in questo caso la vulnerabilità dei nostri centri storici che sono gli elementi che caratterizzano il nostro territorio in maniera fondante sono anche più fragili i centri storici sono stati nelle Marche come dire hanno visto una stagione di calo dei valori economici come dire dei manufatti delle aree centrali e a questo è corrisposto anche un mancato efficientamento dal punto di vista della sicurezza il sisma ci ha messo davanti in maniera evidente questa criticità non dobbiamo dimenticarci il piano di Osimo parte da questi elementi introduce come primo piano nelle Marche la microzonazione sismica come un elemento di sicurezza e la condizione limite per l'emergenza c'era oggi da noi tutta la protezione civile la preparazione agli eventi non significa come dire attendere che arrivi qualcosa ma capire che ci sono delle fragilità e che con queste è possibile condividere e addirittura è possibile produrre dei valori il tema quindi degli spazi pubblici è un tema che non sta alla dimensione del piano regolatore ma che il piano regolatore deve tenere in considerazione e quindi l'accessibilità in questo progetto abbiamo incluso moltissime associazioni come dire legate alla disabilità la diversità la capacità di come dire vedere le cose da un punto di vista diverso e ci hanno fatto coniugare due aspetti quello dell'accessibilità nell'ordinario il funzionamento della qualità dello spazio pubblico urbano nell'ordinario e poi la capacità di evacuare in caso di di sisma o di criticità ambientale sono 4 milioni e mezzo sono portati nel cuore della città nel centro storico per renderlo più sicuro e accessibile e questo è già un primo risultato del piano la rigenerazione si affiancava come dicevo e vado velocemente a chiudere al paesaggio alle risorse naturali ci sono degli strumenti innovativi anche qui la BEI la banca europea finanzia infrastrutture verdi e blu servizi ecosistemici e qui tra traduzioni in italiano sono soluzioni tecniche a base naturale che prevedono che cosa? di potenziare l'ambiente urbano con dotazioni che possono essere al contempo elementi di qualità dove la comunità può vivere con le risorse naturali e quindi qui richiamava il sindaco il piano del verde come una componente il piano del verde è un piano di manutenzione e gestione ma se io nel mio strumento urbanistico vedo la possibilità di costruire infrastrutture verdi quindi non le strade infrastrutture verdi per il tempo libero e la crisi sanitaria ci ha fatto vedere chiaramente quanto siano indispensabili quelle risorse ambientali in prossimità la vicinanza l'accessibilità a questi beni e a queste risorse che devono essere sposati però con una dimensione che è anche quello del territorio rurale i valori immobiliari qui professor Gregori su questo magari spero di non dire una cosa insomma taglierò col falcione ma sono ad Osimo abitare nel territorio rurale è ancora un elemento di grande valore anche economico i valori immobiliari che abbiamo registrato ci dicono che la periferia di Osimo soffre più che il casale nell'area agricola questo è palese per tutti ma significa che dobbiamo ripensare i meccanismi e i valori del territorio ed è possibile farlo non è una cosa come dire che non sperimentare ci sono altri contesti che hanno già attuato con come dire con successo questi strumenti queste possibilità e noi vorremmo capire come noi che ci occupiamo di terza missione quindi ricerca applicata ricerca azione la chiameremo possiamo sperimentare su Osimo il tema del territorio urbano rurale è un tema centrale gli nuovi standard devono essere rivisti proprio in queste aree verdi che sono diventate durante la crisi sanitaria il rifugio di chi cercava di poter come dire avere uno spazio all'aperto in sicurezza ecco che allora Osimo con le sue dotazioni ambientali può offrire con il nuovo piano una visione diversa anche innovativa rispetto alle pratiche regionali gli ultimi due temi questi ovviamente centrali nella pianificazione i servizi servizi in termini non di dotazioni questo ce l'abbiamo compreso parlando con la comunità ma in termini di accessibilità come arrivo a quel servizio come quel servizio dialoga con un altro come io riesco a muovermi per esempio a piedi tra un servizio e un altro in sicurezza ecco che allora vedete il tema infrastrutture e mobilità abbiamo parlato di infrastrutture legandole al concetto ambientale e la mobilità legando a sistemi diversi di mobilità quindi i temi sono come dire temi che devono essere affrontati ovviamente il piano urbanistico non è la panacea di tutti i mali ma è la base strutturale sul quale poggiare le riflessioni se io mi faccio la domanda giusta la risposta sarà verosimilmente più vicina a una soluzione se io imposto il ragionamento quindi il governo del territorio la pianificazione urbanistica con una visione che non corrisponde a quello che è reale oppure non intercetta in maniera lungimirante le visioni al futuro come dicevamo prima probabilmente lo strumento come è già accaduto con lo strumento precedente non troverà i risultati attesi ecco che allora nuovi strumenti stanno dentro se lo spazio è quello della comunità i patti di collaborazione il regolamento sui beni comuni urbani la città come bene comune questo è un altro principio importante contenuto all'interno del piano e la tattica urbanistica ovvero sperimentare in corsa gli elementi infrastrutture e mobilità l'abbiamo detto è sicuramente il tema dell'accessibilità e di un'infrastruttura che Osimo spetta da tantissimi anni e che non ha mai visto fino adesso sembrerebbe un'occasione adesso nel PNRR il momento storico culturale più opportuno forse per andare come dire anche qui subito ad incidere alcuni interventi sono già in cantiere di infrastrutturazione si tratta di andare a completare un'opera con uno sguardo diverso il meccanismo che purtroppo il piano individuava individua perché è vigente cioè quello costruisco le case e lì dentro metto la strada non è dal nostro punto di vista un meccanismo accettabile io prima faccio l'infrastruttura e poi costruisco le case e questa operazione è basata sul differenziare i modelli di mobilità io devo muovermi tra i quartieri e poi devo dare la possibilità ai transiti di collegamento come diceva il sindaco Osimo Pivò Cerniera di relazioni tra il territorio Inconetano e l'Alto Maceratese tutta l'area della come dire Torna Macerata e diventa centrale quindi assicurare quei transiti in ambienti separati da quella che è la mobilità urbana non ha senso coniugare questi due spazi nello stesso luogo e soprattutto non ha senso andare a immaginare le strade ancora come spazi unicamente per una tipologia di mobilità la più veloce a discapito della sicurezza la più impermeabile per poi generare magari elementi di criticità nel controllo delle acque meteoriche superficiali perché il cambiamento climatico ce l'ha insegnato sto finendo scusate ma io mi appassiono e poi è un tema che credo che faccia piacere a tutti discutere di questi elementi immaginando che sia possibile farlo non generando la frustrazione della città è sempre quella i problemi sono sempre gli stessi ma vedendo che è possibile cambiare qualcosa non si vede tanto dalle slide ma ci sono anche la possibilità di nuove infrastrutture quindi legate alle dotazioni ambientali che dicevamo ciclovie cammini sono tutte dotazioni che per esempio nel piano regolatore vigente non sono previste e che necessariamente includeremo perché l'Europa sta andando in quella direzione ed è interessante sposare questo punto di vista perché porta economie sul territorio ma porta anche qualità del vivere qualità dell'abitare per chi risiede l'ultimo tema e poi veramente ho finito è quello della resilienza PNRR che è coniugato col tema della sicurezza del territorio in questo caso il controllo idrogeologico che è un controllo che va fatto sia attraverso un progetto di infrastrutture le vasche di espansione a protezione degli insediamenti ma anche con la possibilità di vedere oltre a un'infrastruttura tecnica anche spazi che possono essere nell'ordinario perché l'alluvione magari non arriverà mai e quindi ho speso soldi per fare un'infrastruttura per difendermi da qualcosa che non arriverà mai ma al contempo può essere l'occasione per generare degli spazi pubblici con nuove qualità e questa è un po' la sfida che ci siamo posti quindi la sicurezza e la qualità urbana ad esempio passa attraverso grandi progetti ma anche attraverso interventi minuti e quindi il depaving che questa pratica che ormai anche qui l'Europa ci ha insegnato e che le marche ancora non hanno preso a pieno ma che col piano di Osimo sperimenteremo anche qui in via prodromica è quello di andare a magari iniziare a togliere un po' di questi asfalti che tra l'altro nella manutenzione e nei costi di smaltimento iniziano ad assumere dei numeri significativi e a depavimentare per tornare a riequilibrare le bombe d'acqua che arrivano sul territorio che scivolano da una superficie a un altro e Osimo su questo per la sua conformazione ne risente in maniera importante ma iniziare a portare di nuovo l'acqua piovana in falda e a farla ripenetrare nei nostri territori queste operazioni sono operazioni possibili altre città ce le hanno insegnate le attueremo su Osimo andando a caratterizzarle con un piglio diverso ma come vi facevo vedere all'inizio l'obiettivo è quello di non vedere le cose per pezzetti le strade i servizi l'ambiente e la comunità ognuna con un tema a se stante ma cercare di vederle nel loro insieme da qui ai prossimi mesi sarà fornito come dire un primo documento in bozza programmatico che vorremmo dare alla comunità partendo dall'associazione di categoria stakeholder locali e comuni circostanti e dibattere sui temi delineati con la comunità locale quindi portare strarre dai territori gli elementi che avete visto ce ne sono veramente moltissimi perché poi abbiamo dibattuto molte sere su questi elementi strumenti tecnici che abbiamo messo a disposizione per poi andare a affinare questo documento e portare alla formazione del nuovo piano per Osimo nuovo piano che non sarà a questo punto per come l'abbiamo descritto regolativo prima di quelli nel come dire a fine del novecento facevamo i piani di fabbricazione perché uscivamo dalla guerra dovevamo ricostruire fabbricare poi abbiamo imparato a regolare ecco non possiamo più regolare adesso dobbiamo innovare e da questo punto di vista il piano di Osimo prova a fare questo grazie grazie pof si denota la passione che hai messo nel descrivere una visione diversa una visione diversa di città questo deve servire all'amministrazione comunale ma a tutti coloro che sono qua oggi con i quali abbiamo condiviso questa prima parte di elaborazione del documento programmatico per rispondere anche a quale domanda avete visto come il professore è andato nell'analisi delle criticità e ci ha detto prima dobbiamo pianificare bene per poi dire sì allo stakeholders che potrebbe essere l'attività produttiva come potrebbe essere l'imprenditore di lei che vuole nuove residenze in una parte del territorio di Osimo non si può dire sempre sì allora la criticità che portiamo dietro dal passato e che vogliamo modificare è proprio questa quando si pianifica si pianifica insieme perché quando si varcherà la porta degli uffici comunali sarà sicuramente un sì perché si edificherà dove è possibile e si doterà la città di nuovi standard urbanistici importanti per dare un piano sostenibile alla città dove si è edificato ci dovranno essere tutti quei servizi raggiungibili sia in auto sia attraverso mezzi pubblici sia in bici sia a piedi questo scollamento con il passato deve farci guardare con un grande auspicio con un grande entusiasmo al futuro della città di Osimo e chi meglio dell'università Politecnica delle Marche poteva avere una visione strategica dall'alto calata sulla città ma nel racconto e nell'ascolto dei cittadini che ci chiedono perché oggi non è possibile costruire e perché domani invece si potrà costruire e dove lo costruiremo insieme e ci sarà un'altra occasione per invitare di nuovo il magnifico rettore a parlare di questa importante tematica grazie a tutti volevo far dono al magnifico rettore di un di un gesto proprio simbolico che racconta la nostra la nostra città e adesso volevo descrivertelo perché abbiamo un libro intanto che racconta diceva il professor Marinelli si riparte proprio dal dal centro storico e questo libro redatto da Rotary Club di cui mi onoro di far parte che racconta i palazzi storici della nostra città la medaglia che raffigura le cinque torri sulla base delle quali abbiamo raccontato oggi il piano regolatore già allora Osimo era una città dicevi prima dei numeri dei residenti della nostra città già allora i Piceni conquistarono la nostra città proprio perché si erigeva su un colle e potevano meglio dominare il territorio così è rimasta e così vogliamo pensare nel suo futuro e il gallardetto magico della nostra città quindi grazie 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 davvero di questa presenza illustre oggi grazie a tutti